Può annunciare parole di vita solo chi fa della propria vita un dialogo costante con la parola di Dio, meglio, con Dio che parla. Con queste parole Papa Francesco ha accolto in Vaticano la comunità del Pontificio Seminario Lombardo, sottolineando l'importanza della formazione sacerdotale per essere futuro della Chiesa secondo il cuore di Dio e non secondo le mode del momento. Sull'esempio di fedeltà dei Santi, come Carlo Borromeo, il Pontificio ha chiesto a tutti di essere semplici, semplicità di vita che eviti ogni forma di doppiezza e mondanità e semplicità di linguaggio, non predicatori di complesse dottrine ma annunciatori di Cristo morto e risorto per noi. E per rispondere pienamente alla propria chiamata di fondamentale importanza è la formazione, non a compartimenti stagni ma armoniosa. Papa Bergoglio, ricordando il Concilio Vaticano secondo che buttò giù le muraglie che per troppo tempo avevano chiuso la Chiesa in una cittadella privilegiata, non ha mancato di dare coordinate precise per orientarsi la preghiera, l'incontro reale con le persone, la vicinanza con il Vescovo e ha messo in guardia dalla tentazione della normalità. Allora questo sacerdote comincia a contentarsi di qualche attenzione da ricevere, giudica il Ministero in basse ai suoi successi e si adagia nella ricerca di ciò che gli piace, diventando tiepido e senza vero interesse per le altre. La normalità per noi è invece la santità pastorale, il dono della vita. Se un sacerdote sceglie di essere solo una persona normale, sarà un sacerdote mediocre o peggio. Grazie. 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 Grazie.